Pur essendo assai critiche le condizioni dei due bambini accoltellati dal padre giovedì scorso a Cianciana ieri sera, c'era comunque un cauto ottimismo da parte dei medici dell'ospedale di Cristina sulla possibilità che i due fratellini rispondessero positivamente alle cure dei sanitari. I due bimbi di 7 e 3 anni sono ancora ricoverati in terapia intensiva, ma nelle ultime ore c'è stata un'importante svolta con le condizioni del bimbo di 7 anni che vanno migliorando. Il piccolo è stato estubato, si è svegliato e si alimenta da solo, racconta quello che è successo ma al momento i medici e sanitari cercano di farlo distrarre e pensare ad altro. Per gli interventi chirurgici che ha subito la prognosi resta riservata, più delicate le condizioni della sorellina di 3 anni, anche lei di tanto in tanto si sveglia, non ha apparentemente problemi neurologici, ma continuiamo a tenerla sedata per eseguire alcuni esami in attesa che i parametri vitali si ristabiliscano completamente. A parlare Gaetano Bucchieri, direttore sanitario dell'azienda Civico di Palermo, che fa il punto sulle condizioni dei due bambini. Il piccolo cerca di raccontare quello che ha visto e quello che ha subito, aggiunge il direttore sanitario, ma non si deve affaticare, deve affrontare un posto operatorio molto complesso. A distanza di 48 ore le condizioni del bambino comunque sono buone, anche i parametri della bambina vanno migliorando. La bambina è piccola e tutti gli esami vanno fatti in sedazione e controllata minuto per minuto. Al momento la prudenza per tutte e due è massima, è chiaro che per bambini così piccoli non si possono dare garanzie perché si potrebbero scompensare. La compagna di Daniele Alba, da lui colpita con diversi fendenti che le hanno fatto perdere tantissimo sangue, è tuttora fuori pericolo e ricoverata nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, dove giovedì è stata sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico. Una donna che condivide la stanza di De Gense insieme a lei ha commentato su Facebook che Aneta, così si chiama la giovane di origini polacche, chiede continuamente notizie dei figlioletti e vuole riprendersi per correre subito da loro. Oggi, intanto, giornata dell'interrogatorio di garanzie in una cella nel carcere di Agrigento, dove si trova rinchiuso da giovedì sera a Daniele Alba, i familiari hanno nominato un collegio difensivo che sarà composto dagli avvocati Luca Burgio e Maurizio Gaudio del foro di Sciacca, interrogatore al termine del quale il giudice per le indagini preliminari deciderà se convalidare lo stato di fermo e improvvedimento di custodia cautelare in carcere. Daniele Alba è accusato di tentato terribile omicidio. Ci sono ancora numerosi punti oscuri da chiarire. C'è da capire intanto la sua personalità, il clima all'interno del quale l'uomo intorno alle 14 di giovedì ha deciso di accoltellare la moglie e i due bambini. Pare che lei, esasperata dalle continue violenze familiari, avesse deciso di andarsene con i piccoli. Prima le aggressioni, poi la fuga di Aneta del figlio più grande e infine la decisione di Alba di consegnare ad un amico operatore del 118 salito con coraggio con un cestello in corrispondenza del terzo piano del fabbricato il fagottino insanguinato con dentro la bimba di tre anni all'interno del fagottino. Pare che ci fosse anche un proiettile, una delle ragioni per le quali i carabinieri durante tutto il pomeriggio hanno indossato il giubbotto antiproiettile non escludendo che Daniele Alba potesse fare fuoco e alle venti, dopo una trattativa lunghissima per convincerlo a consegnarsi ai carabinieri le forze speciali provenienti da Palermo erano già pronte per fare eruzione ma a quel punto Alba ha deciso di arrendersi scendendo le scale facendosi arrestare. Gli investigatori stanno approfondendo la personalità di Daniele Alba che avrebbe avuto diversi problemi Daniele Alba sarebbe una testa calda, infatti appena uscito di casa dopo l'intervento dei carabinieri, l'uomo dentro alla pattuglia che lo portava via ha mostrato il dito medio ad un vicino di casa che lo insultava ed un rapporto con la moglie sempre più complesso L'inchiesta è nelle mani della sostituta procuratrice della Repubblica di Sciacca Brunella Fava